Piazza Garibaldi si trasformerà in un prato verdissimo. 600 metri quadri di erba verranno posizionati nel Salotto Buono di Sondrio in occasione di Garden City. La manifestazione Grinch e Terrabanco in città, sabato 11 e domenica 12 maggio prossimi dalle 9 alle 19. Evento presentato questa mattina in media nella Sala Consigliare del Comune di Sondrio alla presenza di Francesca Canovi, Assessore alle Attività Produttive, unitamente ai rappresentanti di tutte le associazioni partner, da Lucia Giacomelli di Coldiretti, a Alessandra Baruta, direttrice del Museo Valtelinese di Storia e Arte, a Enrica Piccapietra dell'Associazione GEA, a Marco Marieni di Anfa Sondrio, a Massimiliano Greco di Progetto Alfa e Antonio Muracca di Italia Nostra, uniti da un unico obiettivo, consegnare ai residenti e ai turisti una città a conduzione familiare alla portata di tutti e quindi soprattutto green. Perché parlare di green in una città contornata dal verde come Sondrio? Per valorizzare ulteriormente quelle che sono le nostre già bellezze paesaggistiche e portare un elemento di novità e per far sì che questo prato che metteremo in piazza Garibaldi con le varie panchine dove potranno, panche pedane, panche dove i ragazzi potranno fermarsi a chiacchierare, a riposare. Nelle piazze saranno posizionate installazioni con i fiori Art in Flower e sarà possibile votare la preferita. In piazza Garibaldi e Corso Italia inscena mani in pasta, mercatino di prodotti ecosostenibili e biologici, mentre in piazza Lebertacchi il mercato di primavera, a cura di donne in presa col diretti Sondrio, mercato con produttori di piantine, fiori, farine e semi a favore della piccola opera di Traona. E ancora laboratori Green e Kids, dalle 15 alle 19 di sabato in piazza Garibaldi, ai giardini Sassi in piazza Campello. Lo spettacolo aereo Gravity, sabato pomeriggio in piazza Garibaldi, la camminata in blu a cura di Anfa Sondrio. Esporremo delle tavole presso l'alto di Palazzo Martinengo, delle tavole dove raccontiamo la storia, è una favola, però non voglio rivelare niente perché è tutto fatto dalle nostre, dalle mamme rappresentanti di questo gruppo. Poi faremo una camminata in blu, appunto perché il blu è il colore dell'autismo, con le nostre magliette. Noi abbiamo magliette, abbiamo dei gadget, abbiamo il braccialetto, abbiamo creato delle iniziative per ottenere, anche per reperire fondi. L'associazione GIA si occupa di cura di sé, si occupa di psicologia, si occupa di aiutare le persone a ritrovare il proprio giardino interno. E questo anche mi piace molto, perché c'è questa bellezza del giardino esterno che il comune sta allestendo. E l'invito è proprio anche quello di far fiorire, far rifiorire il proprio giardino interno attraverso l'arte, attraverso la scrittura. Applaudiamo l'iniziativa di Coldiretti per quanto riguarda l'iniziativa del mercato a chilometro zero, quindi la valorizzazione degli orti urbani, nonché l'iniziativa del comune per quanto riguarda la trasformazione di Piazza Galibaldi in un giardino, nonché le iniziative culturali organizzate in sinergia con l'associazione GIA e l'associazione Progetto Alfa, per quanto riguarda la riscoperta del centro storico. Innumerevoli infatti gli spazi culturali, fatti di letture di poesie, della riscoperta di angoli successivi e nascosti della città, come la gradinata Ligari, su cui comparirà anche il fantasma della pittrice Vittoria Ligari, infine tè letterari e tanta musica.